Siamo qui a questa manifestazione pubblica e così ricca di gente di colore perché crediamo fortemente in un movimento democratico che possa toglierci dalle scatole questo governo vergognoso, questo governo inutile, questo governo che sta affossando un paese. Riteniamo come movimento che sia giunta l'ora di dare un segno forte a questi governanti del centro-destra che non è più ora di scherzare con il popolo italiano. La situazione lavorativa nel paese è allo strano, l'inflazione tende a essere deflazione in un momento in cui la disoccupazione è in aumento verticale, dobbiamo stare molto attenti ai movimenti di questo governo che cerca di coprire in maniera autoritaria e antidemocratica l'informazione. Nulla trapella su ciò che accade in Italia e al mondo e nulla trapella su ciò che realmente sta attraversando la nostra economia e in condizione ha di poco disastrata. I paesi esteri, in particolare la banca europea, in questo momento ci classifica come paese a maggior rischio di defolto, per cui i nostri voti a CICP da un anno all'altro potrebbero valere carta stessa.